In tantissimi ci avete scritto di fare un video su cosa bisogna fare per rimorchiare in discoteca. Quindi se in tanti ce l'avete chiesto, significa che in tanti non state ottenendo i risultati desiderati in questo contesto. E qui partorisco la prima riflessione. La discoteca è un ambiente difficile, a differenza di quello che credono le persone che parlano per sentito dire. La discoteca è un po' come Facebook. All'inizio qualche conoscenza si faceva anche, ma poi è stato sputtanato. Perché le ragazze sono state bombardate con decine di messaggi al giorno. Da parte di persone che non sanno neanche di stare al mondo. Ecco, le donne hanno ricevuto troppi approcci del cazzo nel corso delle serate. E hanno sviluppato così una certa sensibilità al rimbalzo facile ed immediato. Tra l'altro io seguo la parte serale dei corsi da diversi anni. Quindi vado mediamente nei locali, tre serie a settimana, ogni altra settimana. Dunque non parlo per sentito dire, ma perché ci vado? E tantissimi dei miei studenti riescono a rimorchiare. Infatti avrete sicuramente visto più di qualche foto negli ultimi mesi. Partiamo! Consiglio numero uno. Regola 70-30. Questa è una cosa che non trovate nei manuali. Perché è un concetto che ho notato nel corso degli anni. Il 70% dei risultati che conseguirai durante la serata dipende da come ti comporti nei primi 30 minuti. In questi primi attimi è fondamentale rompere il ghiaccio e rimuovere i freni inibitori. Se parti subito bene, poi avrai tutto il resto della serata in cui sarai pieno di energia e adrenalina. Di conseguenza sarai più fluido, deciso ed immediato in tutte le conoscenze che farai. Viceversa, se continuerai a dirti Eh, ma questa non mi piace. Eh, ma come inizio? Eh, ma cosa le dico? Condizionerai i tuoi pensieri ponendoli sui binari sbagliati. E questo ti influenzerà per tutta la serata. Quindi nei primi 30 minuti devi socializzare. Non necessariamente concludere. Chiedi un consiglio sul drink. Chiedi un'opinione femminile a un gruppo di donne. Oppure fai un complimento ad una ragazza che ti piace. Solo per il gusto di farlo. Insomma, agisci senza alcuna aspettativa sul risultato finale. Consiglio numero 2 Usa la presa in giro divertente e non offensiva. La maggior parte delle donne in discoteca, che tipo di approccio rifiuta? Il complimento. Perché è fatto in malo modo, standard, ripetitivo. E lo avvertono come una sorta di coppia in colla. Viceversa, gli uomini hanno paura di prendere in giro una donna. Quindi, qual è il paradosso? Che se lo fai nel modo giusto, riesci ad agganciare la ragazza. Ad esempio, negli ultimi corsi ho dato delle frasi di questo tipo. Ragazza che aveva una canottiera o corpetto colore fluo. Ciao, toglimi una curiosità. Ma questo vestito te l'hanno dato in omaggio con un pacchetto di evidenziatori? Adesso sappiamo già che alcune donne diranno Eh, io non risponderei mai a una frase così. Io dico che non c'è problema, perché le altre rispondono. Perché una frase di questo tipo funziona? La battuta è sul colore del vestito e non è fatta per sminuirlo. Quindi il punto di presa è molto preciso. Altro caso, ragazza vestita con indumenti color oro e argento. Ciao, secondo me tu sei vestita così perché vuoi far capire che sei una ragazza preziosa. Anche in questo caso, la battuta è molto sottile e leggera. Infatti, solitamente viene digerita con una risata. Questi sono soltanto due esempi che recentemente hanno avuto successo nelle varie salate dei corsi. Chiaramente vanno detti con il sorriso stampato sul viso, perché altrimenti non funzionano. Consiglio numero tre. Non rimanere troppo a lungo nella stessa zona. Questo consiglio logistico non è affatto trascurabile. Perché se tu rimani per troppo tempo nella stessa zona, le persone iniziano a notarti sempre di più. Quindi se stai fermo, se non ti stai divertendo, se sei a disagio, oppure sei nervoso, le persone lo notano. E questo influirà sulla percezione che loro hanno di te. Viceversa, se fossi molto attivo e operativo, potrebbero pensare che tu ci stia provando con tutte. Anche se stai solo chiacchierando con le persone. Quindi cambiare frequentemente zona del locale ed essere sempre in movimento, ti permette di agire in totale libertà. Consiglio numero quattro. Non aver paura di fare brutte figure. Le serate più belle che ho fatto nei locali sono state quelle in cui ho osato di più. Potrà sembrarti paradossale, ma più osi e più vieni percepito come sicuro e non timoroso. Inoltre, mano a mano che osi, impari anche ad allargare la tua zona di comfort. E a non trovarti a disagio anche in situazioni estreme. Consiglio numero cinque. Il tuo outfit deve avere dei particolari. Io lo dico sempre e tra l'altro lo scriviamo anche nelle mail di conferma del corso. I particolari ti permettono di farti notare e di entrare nel campo visivo della ragazza. In un locale tipicamente caotico e affollato, questo è già un piccolo indicatore di interesse. Perché di tutti gli altri uomini vestiti con una camicia bianca a tinta unita e un pantalone nero, non si ricorderà minimamente. Su cosa puntare? Beh, ad esempio una cravatta di un colore particolare o di uno stile che non passerebbe affatto inosservato. Una pochè da mettere nella giacca. Una serie di anelli, una cintura, dei bracciali. Insomma, ci sono opzioni di tutti i tipi e che si possono adattare a qualsiasi stile. Sia esso più elegante o stravagante.